Pace a voi cari amici, chiediamo il dono dello Spirito Santo, chiediamo il dono di un cuore docile che sappia accogliere anche una parola apparentemente scomoda, ma una parola che è Cristo stesso, che è la vita, che è la via, che è la verità. Dal Vangelo secondo Luca, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento, parola del Signore. Ci sono parole che ascoltiamo non volentieri, tanto che, il Vangelo stesso lo dice, tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva. Che cosa? E poco prima, leggiamo, e tutti restavano stupiti di fronte alla grandezza di Dio. Quanto ci piace questo Dio? È un Dio che ti risolve la vita, è un Dio forte, è un Dio che fa i miracoli, è un Dio che vince il male. Infatti poco prima, prima di questo episodio, Gesù libera un fanciullo da un demonio. Ma Gesù, di fronte a questa ammirazione, di fronte a questo consenso pubblico, dice mettetevi bene in mente di per sé, sarebbe mettetevi bene dentro le orecchie. Queste parole, quelle che sta per dire? Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e di fronte a questo non capiscono, non capivano. Le parole rimangono velate, misteriose e nessuno domanda, c'è questo silenzio impuro. Che parole sono queste? È la parola della passione. È il secondo annuncio della passione che troviamo nel Vangelo di Luca, lo troviamo anche negli altri evangelisti. È una parola dura. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. La potenza di Dio si manifesta nella sua impotenza. Il padre che consegna agli uomini il figlio. Chi di voi è padre o madre consegnereste vostro bambino a un assassino, a un delinquente, a un pedofilo? Lo mettereste nelle mani? È il tutto per un padre o una madre o un figlio. Ecco, il Signore Dio consegna all'umanità ciò che era più prezioso. Consegna il suo cuore che è il figlio stesso. Lo ha fatto fin dal Natale, dal concepimento, dall'incarnazione e tutta la vita, fino alla croce. Una consegna per amore. E come ricordiamo sempre nell'Eucaristia, Gesù che si consegna liberamente per amore. La potenza dell'amore di Dio è la passione, è la sua impotenza. È una parola dura. La croce è difficile da capire. A volte è incomprensibile. Non la capiamo con la mente. Basta. Chi capisce la croce? Chi si fida del Signore? Chi ha sperimentato la vita nuova? Chi crede che l'amore del Signore può trasfigurare tutto, anche la morte? Chi crede che la croce è un passaggio? Chi non ha più nulla da difendere? Chi è libero da se stesso? Perché ciò che gli conta è soltanto l'amore del Padre. La tua grazia, Signore, vale più della vita. La fede è questo. È conoscere, capire che Cristo è morto per me, si è consegnato per me. Allora ti invito oggi, caro fratello, cara sorella, ringrazia il Signore perché Lui si è donato al posto tuo.